Stefano della casa avete vissuto delle emozioni uniche partirei proprio da quelle con gli under 17 tra le quattro regine d'italia riviviamo quelli che sono stati dei giorni direi dimenticabili Sì, il risultato finale è stato molto interessante, molto importante, inaspettato perché arrivare nelle quattro vuol dire proprio una cosa che nessuno poteva immaginarsi il percorso non solo dell'ultimo periodo ma di tutto l'anno è stato molto utile a chi ha partecipato a questa under 17 eccellenza ai ragazzi, anche allo staff che sono tutti cresciuti tantissimo tutti erano la prima finale nazionale, staff compreso perché le precedenti di Palacanestro Vado, le nove precedenti erano tutte con Marco Prati allenatore mentre quest'anno questo è un gruppo che è stato guidato da Simone Marisio che faceva parte dello staff di Marco Prati da tanti anni sia nel girone regionale in Piemonte che ha avuto uno spareggio molto difficile poi con la vittoria in Piemonte, lo spareggio con Desio per andare alle finali ci sono stati tanti momenti dove la squadra ha avuto modo di crescere, di migliorarsi e si è presentata a queste finali bene siamo stati un po' fortunati perché il girone ci ha evitato le più forti almeno una delle più forti però è stato un girone molto equilibrato, molto combattuto tant'è vero che è stato l'unico che c'erano tre squadre a quattro punti in testa e si è andato avanti per differenza canestre noi abbiamo fatto secondi e da lì poi è venuta fuori questa partita molto importante che sottovalutiamo perché tutti abbiamo in testa la vittoria con Reier Venezia dei quarti di finale, ma lo spareggio abbiamo battuto Tezenis Verona che è anche lì un altro settore giovanile di A1 ed è finita di tre punti all'ultimo minuto quindi tanto orgoglio e tanta soddisfazione per un gruppo che è nato quando erano ancora under 14 è stato molto sfortunato perché la pandemia gli ha impedito di fare le finali under 15 eccellenza che avevano vinto in Piemonte quindi 99 su 100 gli sarebbero toccate e finalmente hanno raccolto il premio e anche la società raccoglie quanto seminato ovvero una grandissima attenzione al vivaio ai giovani che spesso molto piccoli poi diventano l'ossatura portante della prima squadra Sì, è vero, tanto che quest'anno noi abbiamo rifatto la Serie C quindi una squadra senior che avevamo abbandonato perché non ci serviva diciamo così a far crescere i giovani che erano ancora molto piccoli invece quest'anno avevamo proprio bisogno di uno sfogo senior a disposizione del settore giovanile e l'abbiamo fatto con questi ragazzi che poi hanno tratto grande beneficio nell'under 17 partecipando anche all'under 19 eccellenza e continueremo l'anno prossimo che con la riforma dei campionati ci porterà a giocare la C unica in Piemonte e sarà molto molto difficile perché ci saranno diverse squadre di C gold piemontese che non sono passate nella B inter regionale le C unica piemontese e credo tre o quattro delle Liguri per cui sarà un girone veramente tosto ed è quello che vogliamo per far crescere quelli più giovani Guardando il numero di squadre, guardando il numero di cestisti quale fotografia possiamo fare di pallacanestro vado? Una fotografia di una società in crescita che al di là dell'under 17 e la C che è al servizio ribadisco del settore giovanile e non il contrario anche l'under 19 c'è andato molto bene perché ha finito la metà classifica di un girone con le Lombarde e di cui le prime tre che sono quelle che sono passate hanno fatto poi due e nelle otto d'Italia e una addirittura ha fatto la finale quindi un girone molto molto difficile under 15 molto bene in crescita i regionali hanno fatto un sacco di piazzamenti tra playoff tutti ai playoff l'under 14 è l'elita e campione regionale l'under 13 ha vinto questa manifestazione NBA un po' a sorpresa perché nel girone ha fatto quarta quindi il titolo regionale under 13 il titolo regionale under 14 l'under 17 non ne parliamo il 15 si metti bene il 19 direi i numeri poi ci supportano perché siamo a 450 tra tesserati FIP e mini basket e quindi tanto lavoro da fare ma anche tanta soddisfazione per tutto questo e quindi